L'illuminare le periferie è un rapporto che appunto alla terza edizione vuole mettere luce su quei temi, quei contesti, quelle persone, quei luoghi troppo spesso dimenticati dall'informazione italiana. COSP è un ONG che opera in 25 paesi del mondo in Italia per la giustizia sociale, per i diritti umani, la tutela ambientale e quando abbiamo pensato a questo rapporto ormai tre anni fa lo abbiamo pensato proprio in una funzione di dialogo col mondo dell'informazione e sentivamo forte l'esigenza di spazi nell'informazione italiana che davvero riuscissero a riportare al centro quelle che noi appunto abbiamo chiamato periferie umane e geografiche. Oggi più che mai in questo anno così particolare e così difficile riteniamo che ci sia un ulteriore bisogno, questa esigenza è ancora più forte, più sentita perché è chiaro a tutti che questo virus non ci ha reso tutti uguali, sebbene colpisca tutti. Diseguale è anche l'accesso all'informazione perché appunto crediamo che dar parola diretta a quelle persone, a quelle associazioni, a quelle realtà che come la comunità di Sant'Egidio da dove ci troviamo e che ringraziamo davvero in maniera non formale ma sentita per questa opportunità di essere a Torbella Monaca qui a Roma in un centro davvero significativo e importante per questo territorio. Ecco, dicevo, queste disuguaglianze oggi più che mai hanno bisogno di attenzione, hanno bisogno di luce, hanno bisogno di attenzione mediatica. È ormai chiaro appunto che l'invisibilità di questi temi, delle persone più vulnerabili ma anche dei paesi di intere aree del mondo troppo poco rappresentate e raccontate dall'informazione italiana non solo creano disinformazione ma creano anche frustrazione e scarsa coesione sociale e scarsa comprensione dei fenomeni che come abbiamo visto con la pandemia sono sempre più globali, uniscono il locale e il globale. Ecco, noi oggi cercheremo di passare in rassegna grazie ai dati e alla collaborazione attiva dell'osservatorio di Pavia con i quali appunto condividiamo questo percorso ormai da tre anni e insieme a USIGRAI, Federazione della Stampa, che sono i promotori di questa iniziativa a cui si aggiungono partecipazioni significative e importanti come quella dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale e dell'impresa sociale con i bambini da quest'anno intendiamo appunto iniziare un dialogo e continuare un dialogo con il mondo dell'informazione. Oggi è una prima tappa, è l'anteprima della presentazione dei dati del terzo rapporto ma noi vorremmo compatibilmente ovviamente con le misure Covid e con la possibilità di incontrare direttamente i colleghi portare questo rapporto in giro per le periferie d'Italia, anche del mondo, grazie appunto all'Agenzia Italiana per la Cooperazione e farne momento di discussione e dialogo con i colleghi giornalisti.